buonasera a tutti ragazzi bentornati al mio canale innanzitutto auguri a tutte a tutte le mamme anche se gli auguri a mamma si fa tutti i giorni e non come dice il calendario il 10 maggio ma non è questo il video per per fare gli auguri alle mamme questo video parlo del prodotto Herbalife numero uno al mondo quindi del prodotto principale di Herbalife faccio questo video perché ancora nel 2020 purtroppo si sentono molte passatemi il termine bagianate in giro molte bufale no ok da premettere che questo qui non sto facendo pubblicità ragazzi lo sapete benissimo questo qui è il pasto numero uno al mondo il sostituto del pasto numero uno al mondo da 40 anni ok quindi è logico ed è buon senso capire che se un'azienda che fa un prodotto così ha anche altri prodotti questo il prodotto principe che se un'azienda esiste da 40 anni vuol dire che è solida ok quindi le chiacchiere stanno a zero parlano i fatti e che purtroppo ci sono molti miei colleghi chiamiamoli venditori sì anche se non è proprio la parola adatta che purtroppo si formano male e di conseguenza formano male le le proprie le proprie persone e vi spiego perché funziona Herbalife ok il prodotto il prodotto Herbalife funziona perché innanzitutto premetto che c'è uno staff medico scientifico dietro di alto livello il più alto livello che ci può stare quindi i migliori dietologi migliori nutrizionisti i migliori scienziati stanno parlando di scienza ok stanno dietro l'azienda Herbalife hanno scelto loro di collaborare con Herbalife non è che Herbalife li paga li pagherà anche però c'è dietro un premio nobel per la medicina vi faccio solo il nome lui signarro è il papà del viagra il papà della cardioaspirina ok che quindi anche senza Herbalife no già basta il nome sarebbe stato no ok già dice tutto lui collabora con Herbalife ha fatto un prodotto apposta per Herbalife quindi c'è uno staff medico dietro un medico scientifico dietro di altissimo livello che cosa fa che cosa ha fatto questo staff medico scientifico siccome il nostro corpo è fatto di cellule e le cellule vanno nutrite e non alimentate siccome la gente purtroppo c'è molta ignoranza e disinformazione in giro nutrizione è una cosa alimentazione un'altra ok essendo fatto di cellule il nostro corpo le cellule vanno nutrite ok quindi ha fatto un prodotto che funziona perché se uno perché la gente no si guarda qua ok c'è un'etichetta dietro ok che rispetta i standard del ministero della salute se solo qualcosa non corrispondesse di questo Herbalife avrebbe chiuso perché già la gente non tutti ma quei pochi imbecilli passatemi il termine parlano male se solo non corrispondesse qualcosa o facesse male il prodotto è già avrebbe chiuso l'azienda ok quindi che cosa fa a 220 calorie ma sono 220 calorie di nutrienti questo è un pasto nutriente quindi ipoteticamente vi faccio un esempio anziché fare un pasto normale quello che sarebbe il pasto diciamo dell'italiano medio magari 80 grammi di pasta con 100 grammi di pollo in insalata è un pasto ok è un primo un secondo è un contorno ok che apporterebbe più calorie comunque sia per quanto uno può stare attento qui con 220 calorie hai tutto quello che ti serve ok e non sto dicendo che tutti i giorni tu bevi questo al posto di pasta pane e queste cose qui no però se se devi perdere peso e almeno ti consiglio almeno di sostituire un pasto ok se devi perdere peso non è però dopo ci sono varie no e dipende neanche dalla persona perché quello che bisogna vedere in una persona umana nel nostro corpo sono le calorie tutto è in base alle calorie a quante le introduciamo rispetto a quante ne bruciamo è tutto lì ecco perché herbalife non è stata stupida ecco perché funziona herbalife ok che poi è nata per perdere peso poi poi si è evoluta quindi a una linea per sportivi creme quant'altro tutto a base naturale quindi non ci sono contoindicazioni non ci sono grassi aggiunti ed è tutto vero non è come i prodotti del supermercato che ti dicono leggi etichetta senza glutine senza lattosio ma poi però non ti dicono che sì magari non ha non ha glutine e lattosio ma è tutto comunque con aromi artificiali zucchi artificiali ok quindi non tutti rispettano l'etichetta herbalife la rispetta ok nel mio caso ho aumentato perché lo detto anche in altri video lo ripeto io ho aumentato con herbalife 8 kg ero sottopeso io pesavo 58 kg ora ne faccio 66 ma quando ne pesavo 58 oltre a essere sottopeso ero sempre stanco quindi senza energia non bevevo un goccio d'acqua ero stitico perché se non bevi acqua il 90 per cento a volte vai anche male in bagno perennemente soffrivo di mal di testa per fortuna ho risolto questo problema grazie a herbalife che non cura nulla ma l'integrazione il fatto di imparare a bere e l'ho imparato con herbalife tutto quanto mi ha risolto ad imbagno regolare e ho sparito mal di testa e il mio amico moment è andato io prendevo un moment al giorno quindi poi adesso dipende come si usa io ho aumentato mangiando comunque ho sempre mangiato comunque tanto anche se non sembra quindi io non ho cambiato nulla della mia di come ero otto anni fa ho semplicemente cambiato la colazione faccio quella herbalife anziché mangiare un mezzo pacco di biscotti e oltre a mangiare normale faccio i famosi cinque pasti aggiungo comunque frullati durante il giorno più sonno e meglio è io così ho aumentato 8 kg di massa muscolare e quindi ecco perché funziona herbalife perché con poche calorie è un pasto completo e il corpo sta bene è nutrito il corpo è nutrito ok questo è il segreto perché funziona herbalife poi con una politica del genere la politica di herbalife è soddisfatto o rimborsato da quando è nata 40 anni fa è questa la politica di herbalife soddisfatto o rimborsato con una politica del genere è buon senso capire cioè se un prodotto non ti piace tu lo restituisci in azienda azienda te li dai soldi stop ma non è mai successo non è mai stata attuata questa cosa da 40 anni quindi che dite il prodotto funziona questo per sfatare qualche perché sinceramente mi sono anche un po stancato sempre le bufale no purtroppo tutti possono scrivere su internet no chi racconta bufole o scrive bufole bufale o condivide queste bufale è perché non è informato la maggior parte è chi deve rimettersi in forma parliamoci chiaro e terzo è perché disinformato non sanno che noi coach del benessere siamo formati dall'azienda stessa noi facciamo in continuazione corsi di formazione ok anche con quello staff medico scientifico lì quindi neanche il mio medico di base ha fatto un corso di formazione con il premio 9 per lui segnarlo io sì il mio medico mi ha detto cavolo bravo complimenti il mio medico stesso non è contro herbalife anzi consiglia ai suoi clienti integratori herbalife ok questo per dire che c'è purtroppo ignoranza in giro ce n'è troppa quindi ci tenevo a fare questo video comunque questo è un prodotto un prodotto spettacolare senza di questo tutti i giorni non saprei come fare quanto meno alla mattina ma anche come spuntini ok poi c'è l'aloe c'è l'infuso ok straordinario e che dire se c'è io ve lo consiglio ok questo prodotto è favoloso c'è dietro un assistenza da parte di chi ve lo vende in questo caso sarei ben contento se qualcuno dei miei iscritti al canale o chiunque vedrebbe o chiunque vede questo video può chiedermi informazioni comunque lasciate pure i commenti sotto quindi se doveste decidere di rimettervi in forma semplicemente stare meglio non è per forza perdita peso ok imparare a bere più acqua avere più energia qualsiasi sia il vostro obiettivo io sono qua per aiutarvi mettete tranquillamente commenti sotto se non siete interessati nessun problema l'importante è il mio il mio messaggio era quello di farvi un po di chiarezza il perché funziona per l'uomo herbalife ok perché funziona in questo caso il pasto principale il prodotto principe il pasto principale ok che tutto parte dalla colazione herbalife non è stupido ha fatto un programma che si chiama colazione equilibrata perché la colazione è il pasto l'importante della giornata se tu dai dai al tuo corpo sin dal mattino tutti i nutrienti il tuo corpo sta bene non è non ci vuole un scienziato a capire ok quindi ragazzi è stato un piacere condividere queste cose con voi se siete interessati contattatemi pure sarà mio piacere aiutarvi il mio lavoro è quello di aiutare le persone a stare bene ok in questo caso fisicamente ragazzi che dire spero vi sia servito ciao ciao poi ne vedete pure questo video io sono otto anni che faccio questa attività quindi nessuno nessuno può può contrariarmi a parte che parlano i fatti di herbalife quindi ragazzi ciao ciao in bocca al lupo per tutti Grazie.